analisi di fine settimana con le candele weekly c'eravamo lasciati la settimana scorsa con fase di melt up per gli azionari la fed ha perso il controllo era significava che appunto gli azionari stavano si stavano muovendo almeno gli indici principali in verticale e non c'era più il freno dei tassi e dei rendimenti che nonostante stessero aumentando appunto non sono riusciti a fermare il movimento quindi stocks 600 poi la copertina era sullo stock 600 due d'oggi prima del test dei massimi quindi vediamo che cosa è successo nel frattempo partiamo proprio con a questo punto lo stocks 600 che abbiamo appena nominato questi erano i due d'oggi della settimana scorsa prima del test dei massimi effettivamente il test è iniziato perché la candela di questa settimana è andata all'interno del rettangolo giallo che delimita l'area di resistenza 4 e 90 che corrisponde ai massimi di gennaio 2022 e quindi tutto come da copione per il momento quindi i due d'oggi hanno solo fermato rallentato temporaneamente avviene spesso che a ridosso delle resistenze prima del test ci sia una pausa quindi il test è in corso l'rsi si è impegnato adesso vedremo la settimana prossima il comportamento dello stocks 600 su questi livelli e quindi qui nessuna novità tecnica novità tecnica c'è dagli indici azionari americani in particolare il nasdaq che qui stiamo vedendo le tf delle 3q che registra una bearish engulfing sul su scala weekly vediamo il comportamento dell'rsi su questi livelli perché è importante abbiamo un incrocio dell'rsi con la signal line la figura è un po più netta guardando il future però fondamentalmente è la stessa il bearish engulfing è quando appunto la candela nera va ad oscurare completamente in realtà qui non la oscura non copre completamente il body di quella prima ma manca veramente poco quindi qualitativamente possiamo considerarla tale questo è un secondo top dopo la evening star che si era registrata alla fine al mese di dicembre che non ha avuto seguito perché è stata negata quindi il mercato è andato a fare un nuovo top poco sopra i massimi del dicembre 2021 l'aspetto interessante dal punto di vista tecnico è un aspetto che andiamo sottolineando da diverso tempo è quello delle famose divergenze qui a destra abbiamo appunto il nasdaq che abbiamo appena visto quindi questi sono i due massimi di cui parlavo questo è il massimo di fine dicembre e questa è la fase attuale ecco quello che sta succedendo è che abbiamo delle divergenze marcate sia su su tutto e due questi indicatori che vedete in basso il primo è relativo e il breath quindi il numero di titoli all'interno del nasdaq 100 che sono maggiori sono superiori alla media a 50 e qui sotto abbiamo il numero di titoli che sono più in alto rispetto alla media a 20 quindi come vedete l'ultima gamba rialzo quella che giusto per dare dei riferimenti è partita il 17 gennaio è avvenuta col numero dei titoli sopra la media 50 che andava calando questa è una divergenza importante perché la media 50 è considerata appunto una media più tendente al medio periodo e quindi questo poi fa il paio con le prime divergenze che si erano invece manifestate qui nel corso della salita precedente dove la media i titoli che erano più in alto rispetto alla media 50 erano ancora in salita ma quelli più in alto rispetto alla media 20 non avevano fatto il nuovo massimo quindi il primo campanello d'allarme era venuto qui e adesso questa ulteriore leg che si è sviluppata e potrebbe essersi conclusa almeno lasciando spazio a una pausa e non non necessariamente a un reversal potrebbe essersi conclusa con il bearish and golfing che abbiamo visto prima ecco quest'ultima fase è venuta non solo con la divergenza del dei titoli più in alto rispetto alla media 20 che come vedete non è riuscita a portarsi sopra i livelli della salita precedente ma anche con quelli rispetto alla media 50 che hanno iniziato a scendere pericolosamente sotto la soglia di 50 50 la linea bianca quindi siamo quasi con il metà dei titoli del nasdaq 100 che è al di sotto della media 50 periodi mentre l'indice è andato a fare nuovi massimi perché è andato a ritoccarli questa settimana per l'S&P 500 visto che ci siamo che qui a sinistra e comunque parliamo di breath la situazione è analoga la la gamba precedente la gamba precedente quella che si è sviluppata fra la fine del mese di novembre e la fine del mese di dicembre è avvenuta con una regolare progressione dei titoli che erano superiori alla media 50 con quelli che erano superiori a media 20 che avevano già dato un primo segnale di debolezza e qui stessa cosa per il nasdaq d'altronde le performance sono simili perché come abbiamo detto tante volte il in realtà qui i giochi sono stati fatti da pochissimi titoli e pochissimi titoli e l'abbiamo evidenziato più volte che la performance è stata condizionata dai famosi magnifici 7 e l'altra notizia della settimana che anche all'interno dei magnifici 7 cominciano a manifestarsi delle divergenze marcate qui vediamo grafico a linea che parte dagli inizi del 2024 la linea bianca e l'S&P 500 le linee colorate sono i famosi 7 titoli a cominciare dal basso tesla che non è più neanche in teoria tra i primi 7 perché come giustamente segnalava un amico ormai come capitalizzazione scesa mi sembra intorno al decimo dodicesimo però virtualmente viene considerata fra i primi perché lo era e perché comunque molto utilizzata dai trader molto scambiata è uno dei titoli più scambiati ogni giorno quindi vedete tesla già all'inizio dell'anno è iniziato a scivolare verso il basso e quindi dall'inizio dell'anno segna circa un meno 20 per cento e poi ultimamente ha preso la strada a scendere apple che sta divergendo guardate la linea bianca che è flat leggermente in alto mentre la linea blu che viene in giù quindi ha cominciato a divergere questa settimana ecco la novità questa linea viola la linea viola è google quindi anche google sta abbandonando l'indice lo lasciandolo qui per il momento sostenuto dagli altri quattro in realtà sono rimasti due i più forti il solito nvidia che anche questa settimana non si è fatto mancare una performance positiva e con la linea viola abbiamo meta e poi più in basso abbiamo microsoft e amazon quindi amazon è la terza e microsoft è quella più vicina all'indice quindi anche all'interno dei magnifici 7 cominciamo a vedere delle crepe ecco quindi questo è un po il quadro dal punto di vista tecnico dobbiamo segnalarlo l'abbiamo detto più volte la heat map della settimana dell'SMP 500 e riflette un po quello che abbiamo appena detto quindi un quadro grigetto poco verde con dei grossi rossi che sono appunto google apple di cui abbiamo appena parlato che hanno cominciato a scendere e microsoft poi il solito gioco del scende gigino sale gigetto e quindi l'indice più o meno rimane sostenuto e la i lilly più 6 per cento e la i lilly ormai è a pieno titolo tra i primissimi qua c'è un'altra bolla in corso sul farmaco per l'obesità e tesla più 5 per cento quindi dopo le batoste delle settimane scorse un bel rimbalzo per tesla che va quindi a compensare un po l'andamento della settimana per lo spy andiamo a vedere lo spy ecco la candela dello spy è meno netta rispetto a quella del nasdaq che è un bearish engulfing però anche questa da un punto di vista tecnico è una candela di frenata del movimento perché questo è un hanging man come si dice in gergo cioè quando la open e la close sono nella parte alta quindi è un martello che però quando si manifesta nella parte alta del trend appunto assume la denominazione di hanging man un po lugubbere perché sarebbe l'impiccato nel senso che qualora i prezzi dovessero rompere verso il basso questa candela quindi stiamo parlando di 4.900 per dare dei numeri 4.900 dell'indice s&p 500 se dovessero portarsi i prezzi sotto 4.900 si creerebbe una forte imbalance quindi con queste due settimane che sarebbero costrette poi a degli stop loss veloci perché in questo momento chiaramente il trend è pienamente orientato al rialzo nonostante tutti gli indicatori siano in zona di guardia in zona di eccesso l'rsi sta scendendo da 82 quindi sono livelli molto alti nonostante però diciamo il trend è quello anche perché abbiamo tutti gli indicatori di sentiment in zona di estrema avidità o avidità oscillato intorno a questi due settori che però comunque indicano che appunto il mercato è ancora orientato al rialzo quindi vediamo nel corso della settimana se ci sarà un seguito a questi campanelli di allarme tra l'altro ecco l'altro così approfitto anche per rispondere un amico perché facendo il giro degli indici il russell ci aveva dato un certo punto la sensazione con tre giornate molto forti nel corso della settimana scorsa soprattutto quindi la sensazione di voler finalmente rompere al rialzo questa famosa resistenza in area 200 che ha fermato tutte le avanzate praticamente da aprile 2022 quindi da più di un anno quindi il russell abbiamo detto più volte ancora molto lontano dai massimi ed è l'indice che principalmente aveva finora evidenziato le divergenze che ora cominciamo a vedere anche all'interno degli indici maggiori l'S&P 500 e il Nasdaq ebbene la performance in Russell le ultime settimane in realtà ecco si è diciamo con l'analisi più approfondita dei movimenti di questo indice è stata in realtà anch'esso dovuta alla fine a un titolo addirittura super micro computer è l'unica azione che conta nel Russell 2000 per la performance di quest'anno quindi andando a fare i conti qualche analista ha scoperto che quello che Russell ha fatto da gennaio 2024 che non è un gran che perché sta prendendo circa un 2% per il tre quarti di questa performance quindi oltre un punto e mezzo percentuale dipende solo da questo titolo qua smc appunto il super micro computer che comunque è diciamo accodato al alla carovana dei t al gruppo gruppetto chiamato come volete dei titoli che stanno hanno preso l'andamento verticale sull'hype dell'intelligenza artificiale allora in questo grafico come potete vedere sì small cap era small cap perché grazie a una performance del mille passa per cento fra un po vedremo il grafico nel corso dell'ultimo anno ecco smc è qui sopra in alto a destra questo è un grafico che ha in ordinata le capitalizzazioni quindi vedete siamo arrivati a 55 miliardi qua ci sono tutti gli altri titoli del Russell che sono rimasti lì sotto perché questo quasi è moltiplicato per 10 quindi mentre la media dei titoli quotati al Russell come capitalizzazione intorno al miliardo e mezzo questo è arrivato a 50 miliardi 55 miliardi quindi ha cominciato da solo a spostare l'indice ecco questo è un altro un altro elemento delle 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 assurdità e delle distorsioni delle aberrazioni a cui stiamo assistendo in questo periodo e a proposito di super micro computer andiamo subito a vederlo eccolo qua tra l'altro questa settimana candelone shooting con picco di volumi quindi potrebbe segnare forse almeno per il momento un alt a questo movimento verticale delle ultime cinque settimane che ha portato i prezzi appunto a triplicare nell'ultimo mese solo nell'ultimo mese ma se andiamo indietro a marzo 2023 quindi un anno fa è esattamente quello che vedevamo prima sul grafico precedente la performance è del 1043% quindi si è moltiplicato per 10 e si è moltiplicato per 3 soltanto per 3 dopo essere già salito a 300 dollari è arrivato a 1000 nel giro di 4-5 settimane poi solo ieri mega correzione del 20% è chiaro che qua siamo ormai in piena fase speculativa option call comprate a manetta e quindi prezzi che poi si avvitano al rialzo fenomeni che abbiamo visto tante volte non ripeto cose già dette chi segue lo sa e sa anche che queste cose qua quasi sempre non finiscono bene a prescindere dal valore della società e a prescindere dal diciamo dal fatto che comunque l'intelligenza artificiale come altri fenomeni e altre innovazioni tecnologiche sicuramente porteranno avranno un peso sullo sviluppo della nostra economia della nostra vita e a questo proposito proprio nel video di ieri ricordavamo sisco 24 anni dopo la bolla perché abbiamo analizzato un po la situazione di sisco e sisco era la nvidia del 2000 cioè era un titolo che aveva la leadership sull'hardware per la costruzione delle reti internet qua nella parte iniziale del grafico vedete a sinistra raggiunse all'epoca dei valori che oggi dopo 24 anni non sono stati ancora ritoccati ecco questo è quello che abbiamo visto accadere tante volte quindi parliamo sul sulla base dell'esperienza proprio perché queste cose le abbiamo viste e riviste va bene ecco questo un po il quadro per gli azionari dell'europa abbiamo parlato diamo un'occhiata veloce al dax leggermente più alto qui abbiamo appunto riusciamo meno a vedere le abbiamo viste dal punto di vista un po qualitativo guardando la it map le divergenze però anche qui abbiamo lo stesso fenomeno di pochi titoli lo abbiamo visto nelle settimane scorse che hanno fatto un po la performance anche per per gli indici europei principali i rendimenti ecco questa settimana i dati sull'inflazione il cpi martedì ha dato un primo scrollone agli azionari ha fatto ripartire verso l'alto i rendimenti qui lo vediamo meno la scala un po compressa quindi apriamo un attimo quindi vedete l'rsi che punta verso l'alto il decennale americano si è riportato sulle resistenze in area 4 e 3 dove passa la v stop questo ripeto non è stato sufficiente a tenere a bada per il momento i listini azionari vedremo perché comunque fino ad oggi almeno l'azionario si era comportato a torto a ragione si era correlato con i rendimenti quindi i rendimenti che calavano corrispondevano a rally del mercato azionario rendimenti che salivano corrispondevano a periodi di correzione come quella che abbiamo visto tra luglio e settembre dove i rendimenti si sono impennati abbiamo avuto dei cali importanti sui listini però negli ultimi giorni niente non c'è stato nessun effetto pratico almeno per ora almeno per ora quindi 2 4 per cento per il decennale tedesco anch'esso sulla v stop vedete dal punto di vista tecnico si comportano allo stesso modo l'indicatore lo stesso perché è la volatilità stop line agganciata alla media 13 periodi quindi è tutto chiarito qui il dettaglio su sugli indicatori che andiamo a visualizzare come vedete grafici teniamoli sempre il più possibile semplici poi che uno usi la v stop e uno usi la media mobile può usare quello che vuole l'importante perché ogni indicatore ha il suo perché non c'è il silver bullet non c'è l'indicatore valido per tutto e per tutte le stagioni però l'importante è avere coerenza e chiarezza del quadro quindi il mio consiglio è quello di fare una scelta e mantenersi poi coerenti con quella tenendo la situazione più pulita possibile in modo da non farsi offuscare le idee da troppe informazioni bene dall'atto delle commodities non abbiamo grosse novità a parte una bella candela gialla dell'argento che ha retto bene sui supporti in area 22 vediamo se partirà un'altra rotazione verso l'alto verso le resistenze in area 25 il dollaro ha retto bene ancora una volta alla forza scusate l'oro ha retto bene ancora una volta la forza del dollaro che ha toccato il dollar index il target in area 105 che avevamo detto adesso stazione a poco sotto ha chiuso a 104 e 27 e quindi l'oro ha respirato si è riportato verso l'area di 2020 2030 quindi continua questa fase di consolidamento però l'impostazione resta positiva fase di correzione siamo all'interno della fascia grigia continua la caduta verticale dei prezzi del gas questo il gas americano che sembra non trovare fondo d'altronde il gas è critico perché quando dal punto di vista climatico le temperature salgono in un momento del genere il gas ha difficoltà di stoccaggio quindi i prezzi tendono a cadere molto velocemente quello che sta succedendo sia al gas americano che al gas europeo che è arrivato a 24 e 8 sembra ieri quando eravamo a 30 mettiamo un attimo la scala logaritmica altrimenti qui non riusciamo a visualizzarlo proprio per le ampie escursioni che ha avuto questo strumento ricordo che un target area 15 che lo so che sembra lontanissimo ma sembrava lontanissimo anche 20 non più tardi di novembre quando eravamo ancora 50 eppure ci siamo arrivati quindi continueremo a tenere d'occhio queste variabili che sono importanti per l'andamento dei prezzi va bene io direi per questa settimana è tutto la prossima settimana sarà molto interessante lunedì l'america è chiusa ma l'europa è aperta quindi continuate a seguire perché avremo novità tutti i giorni grazie a tutti per l'attenzione buon fine settimana appuntamento a lunedì grazie a tutti